milano venezia direzione venezia nei pressi di castelnuovo del garda fra peschiera e somma campagna tutto fermo trucche trucche lemme lemme noi abbiamo iniziato con ore a voi fai lì dire ragazzi solo la corsia d'emergenza non possiamo bloccare il resto la situazione si fa interessante eh guardate la coda dietro e guardate davanti a noi vai malpensa direzione magenta buonasera a tutti a tutti voi che siete dietro il volante dieci chilometri di coda direzione bologna partendo da modena quattro frecce accese come sempre e anche se siamo su un furgone siamo con voi i camionisti siete la nostra forza e anche dietro non è da meno continuiamo così ragazzi neanche un centimetro non molliamo mai mai dobbiamo bloccare l'italia finché tutti scenderanno in piazza e tutti quanti prenderanno calci nel culo che ci ha messo in questa situazione di merda massimo rispetto per i vaccinati come massimo rispetto per i non vaccinati qua è una dittatura non è una guerra sanitaria è una dittatura che va immediatamente eliminata buon lavoro e tanta pazienza a tutti non è una guerra sanitaria calmate non è una guerra sanitaria non penso che non è la guerra segnale non è una guerra sanitaria